C'è un po' di cosette. Che fa? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Fortnite, per andare ad utilizzare una nuova strategia del capitolo 5 che sta totalmente devastando il gioco. O meglio, chi la riesce ad utilizzare sta devastando il gioco e le lobby. Io sono riuscito più o meno a padroneggiarla, più che altro, nell'endgame della seconda partita, perché abbiamo fatto due game, secondo me, molto interessanti, e soprattutto alla fine della seconda è stata davvero incredibile. Prima di continuare con il video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccandole con i soggetti di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, è davvero fondamentale per supportarmi. Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccando, anche perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo. Grazie però di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciando un bel mi piace per supportare il video. Inizieremo in no build, perché questa strategia si può notare molto di più in no build, riferendosi ovviamente a delle armi. Ma soprattutto, visto che vi sta piacendo molto questa tipologia di challenge, vado a giocare inizialmente in solo versus squad, poi solo versus trio, finché non riesco a vincere, insomma. Ovviamente solo versus due, poi in caso nelle solo normali. Ora vi lascio i game, buona visione. Ok ragazzi, ce ne andiamo direttamente dal buon vecchio Jonesy, perché lì dove si trova lui nel sottosuolo ci stanno tantissime valigette delle armi. E con le valigette delle armi dovremo trovare abbastanza facilmente il nuovo cecchino. Regà, il cecchino di questo capitolo 5 è praticamente una delle armi più forti, secondo me, della storia di Fortnite. Più che altro grazie alla nuova meccanica delle modifiche, che quindi rendono possibile il fatto di poter utilizzare un cecchino senza il mirino. Quindi, se siamo abbastanza fortunati, io mi prendo un paio di cecchini qua. Vediamo se riusciamo a trovare anche un buon pump. E quello l'abbiamo trovato viola, raga, ma essendo in no build comunque preferisco questo qui spammone. Quindi anche se l'abbiamo trovato blu, prendiamo quello. No, raga, il nuovo fucile, il nuovo fucile leggendario. L'altro giorno per fare il video sul nuovo fucile gendarme l'ho cercato in lungo e in largo e non l'ho mai trovato più alto della rarità verde, vabbè. Ah, quindi facciamo una cosa del genere. Qui lo mettiamo quello senza mirino e qui lo mettiamo quello col mirino. Perfetto, raga, ne vuole proprio uno senza mirino e uno col mirino più grande, più che altro per gli avversari dalla distanza. E per il resto giochiamo appunto col pump e questi due cecchini. Che in realtà è lo stesso cecchino, però appunto ne abbiamo due. Io in realtà, raga, ho visto che un sacco di gente lo fa senza fare challenge. Cioè, ci gioca proprio seriamente col doppio cecchino. Io vorrei anche provare a modificarli per migliorare l'arma in generale, ma anche magari per andare ad aumentare il caricatore. Perché avere due cecchini, tra l'altro abbiamo trovato un altro e abbiamo trovato, ragazzi, la nuova cura. Cioè, incredibile, raga, l'altro giorno ho fatto il video sulle novità e l'assalto lo trovavo solo bianco e verde. La nuova cura non la trovavo, oggi abbiamo trovato di tutto. Però sono contento lo stesso perché comunque posso quindi andare in giro con solo una cura perché, raga, è devastante questa nuova spuma. Comunque stavo dicendo, raga, un sacco di gente li sta utilizzando questi nuovi cecchini, questo nuovo cecchino, anzi, anche proprio a modi double pump, cioè colpo di pompa, switch sul cecchino e cerca di hittare. Sul mio canale extra, su GG Specials, dove ogni tanto facciamo qualche reaction e ultimamente cerca di fare un sacco di reaction a Mr. Savage, abbiamo visto come lui addirittura cerchi proprio la hit in no scoop col cecchino, ma non solo così tanto per scherzare e trollare, ma anche proprio per cercare seriamente il colpo. Infatti lo abbiamo visto anche in Cash Cup, lo utilizza come strategia. Tra l'altro, raga, siamo stati anche abbastanza fortunati coi colpi perché praticamente siamo pieni. Vorrei cercare solo magari dei bunkatili o dei movement, dopodiché per me siamo a posto. Ripeto, sarebbe top riuscire anche a modificarle le armi, ma mo' ci proviamo, vediamo un po' che cosa riusciamo a combinare. Eh, vabbè, raga, non ci credo, ho trovato un'altra spuma. Cioè, veramente, l'altro giorno, raga, mi sono impiccato a trovarne qualcuna così tanto per farla vedere e Moji ce le sta spammando. Comunque, raga, mi sa che ancora non ho fatto challenge con queste nuove valigette, con le valigette da cui abbiamo preso queste armi. C'è una bella challenge dove posso utilizzare solo le armi delle nuove valigette. Non so se l'ho già fatta, boh, non mi ricordo neanche. Ne abbiamo fatte realmente tanti in questo nuovo capitolo 5 che già non mi ricordo quali ho fatto e quali no. Però se non l'ho fatta ci starebbe farla, appunto. Certo, non è così difficile come challenge, ma potremmo perché no farla in ranked. No, raga, un team qua? Allora, c'è un team. Eh sì, mi sa che è un team. Mi sa che è un team. Ah, boh, in un attimo, perché comunque... Ah, no, qua ce ne sono due, però. No, tre! Tre passi. No, 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 no. E chi sta sparando? No, qua non ci posso passare. Oh, mio Dio. Eh, raga, senza movement. No. Stavo usando il coso. Allora, boh, in un attimo. Ok. 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 Non mi sembra il team più sveglio della storia, ma, insomma. Allora, facciamo... Oddio. No, no, bro, non far esplodere. Poi, certo. Allora, se magari hittassi gli avversari, darei un po' più di senso alla challenge di oggi. Diciamo che non è così facile andare a hittare senza mirare col cecchino, così come stavo provando a fare io, e, per carità, se fosse stato facile, insomma, sarebbe stata un pochino sbroccata come situazione. Però è così che stanno giocando, appunto, moltissimi player. Build e no build, eh. Proprio indistintamente. Tra l'altro, qui a distese non c'è venuto nessuno. What? Cioè, o meglio, non è che non c'è venuto nessuno, è che però ancora non si sono uccisi Nisha. Figuratevi, io me ne volevo approfittare per arrivare al bunker già aperto per modificare le armi, ma non mi va di uccidere Nisha, anche perché sto giocando senza armi che sparano, praticamente, solo con cecchino e pump. E, raga, ovviamente preferisco un munkatile piuttosto che avere due cure uguali. Ok, raga? Uno qua. Mamma mia. Certo. Ok, era praticamente spaccato ed era solo. Va bene. Allora, diciamo che se avete una buona mira col cecchino è devastante. Cioè, ripeto, stiamo parlando veramente di una roba che è paragonabile ad alcune delle meccaniche più forti della storia di Fortnite. Cioè, veramente, avere il doppio cecchino così, sparare e sparare, è anche abbastanza veloce per sparare l'altro colpo. È veramente fenomenale come cosa. Però, io, raga, di solito, col nuovo cecchino ci piglio pure, eh. Io, ovviamente, non ci devo andare a prendere col nuovo cecco oggi che ci dobbiamo fare la challenge. Questo, raga, sta tornando... Sta tornando palesemente indietro perché gli sto sparando. Dove? Non mi dì che ti sei nascosto là dietro, bro, perché sei un campione. Sei un campione se ti sei nascosto dietro il gommone. Mandanna! Raga. Oh, vabbè, sei teletrasportato. No, non era lui, però. Oh, sì. No, 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 non era lui, non era lui, non era lui, va bene. No, raga, quello è tipo scomparso, non ho capito. Non ho neanche capito se ha quittato, ma sto lutto qua dovrebbe essere della cesta che era sopra il gommone. Vabbè, boh, forse è questo qui con chi là, non ho capito. Ah, a rotaie l'hanno presa, raga, adesso, il medaglione. Mentre a distese ancora no. Vabbè, proviamo a tornare a distese. Allora, in realtà mi ha segnato spari non troppo lontani da qua. Oh, mio Dio, Nisha sta qui, però mi volevo togliere i buncadili per prendere un movement. Dunque, raga, io Nisha ogni volta me la perdo, non so mai dove sta. Poi se capisco dove sta compare e riappare. Allora, andiamo di pampa mentre fa il richiamo degli scagnozzi. Dovremmo provare a ricaricarci un attimino i cecchini. Ok, le l'abbiamo fatta fuori, ma i scagnozzi ancora no. Sapete che non so se prenderlo il medaglione? Cioè, tenerlo anzi, perché adesso poi per andare a modificare le armi lo devo fare per forza. Ecco, vedete, se avete una buona mira voi col cecco potete fare queste cose qua. Anche se, cioè, senza il mirino. Cioè, quella è la roba assurda. Cioè, chi ha una buona mira... Ma che è uno vero? Oddio, uno vero, me sa che è un bot. E io sono più bot di lui a lisciarlo così. Oh mio... No, regà, mi devo ricaricare un attimino il pump, però, perché... Ok, i cecchini. Tra l'altro, sto finendo i colpi dei cecchini, perché non ne sto lutando altri oltre a quelli che ho preso allo start. Però, un attimino con calma, per favore. Ah, voi siete proprio un team tipo quelli di prima. Ok. Ma io so tipo loro, eh, cioè, nel senso. Allora, ma se c'è un altro team che sta sparando dietro a loro? No, mi sa de no. Vabbè, cioè, io mi sto fissando e devo fare entrare gli headshot, perché, se no, io potrei anche puntare a fare banalmente dei colpi normali e non cercare per forza l'headshot. In realtà, potrei anche giocare con l'arma mitica di Nisha, eh. Cioè, prendere l'arma mitica di Nisha. Ah, stanno proprio scendendo, belli aggressivi. Ok, va bene, bro. No, aspettate, però sì, ho tirato giù un altro, io ho già tirato giù uno. Potrebbe essere buono tirargli lì giù tutti. Ok, fatti, 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 va bene. Non che fossero un pericolo, però, intanto, me li so buttati giù. Allora, perché sto andando a modificare i miei cecchini nel momento in cui sto per morire? Perché tanto stiamo per morire. Allora, qui, quello lì va benissimo. No, io direi che aumentiamo la capacità del caricatore a tutti e due, riduce il tempo necessario per passare al mirino e qui facciamo che riduciamo un attimino il rinculo. Su quest'altro che non devo mettere il mirino, ah no, però tanto quando si usa il mirino, quindi sono tutti e due potenziamenti su quando c'è il mirino, giustamente, quindi vabbè, direi di fare così e qui non gli emettiamo nulla. Va bene. Comunque sono entrato nel bunker anche semplicemente per lutare i colpi qui delle cassette, che qua ce ne sono sempre un bel po'. Spero di trovarne alcuno del cieco. Non tanti però, spero di trovarne di più. Ok? No, ma ok, un cavolo, regà. Mamma mia, che schifo oggi, oh! Ok, quello se l'è bombato, ma sta fermo, Roberta, anzi, ferma, scusami, Roberta. Ah, questi c'hanno il bot però. Ok, l'ho hittato quell'altro laggiù. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, ma perché c'ho pochi colpi in sto cecchino? Perché c'ho pochi colpi in questo cecchino, signori? No, ho già usati così tanti? Lo so. Stanno andando a arrestare Roberta? Ma? 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 No, ragazzi, c'è quella roba lì, cioè quelle granate lì le devono assolutamente nerfare, ragazzi. Cioè quelle granate lì le devono nerfare per forza, oh. Cioè mi ha fatto, mi ha fatto 240 di danno in mezzo secondo. Ma poi tra l'altro chi l'ha tirata? Ma c'è qualcuno dietro che è stato il bot o uno dei giocatori? Cioè, oh, va bene, devastato così totalmente. Allora, mi sembra, hanno pure rebuttato, mannaggia la miseria. Così non spreco la spuma. Allora, mi ha dato la kill su Roberta, quindi mi sa che quest'altro team che è arrivato dopo non era il team di Roberta. Allora, buon attimo. Eh, vabbè, si planano pure di qua. Non mi pare il massimo in questa situazione, ragazzi. Quelli stanno anche a sparare in volo a questi. Ma dove è atterrato? Mamma mia. Se mi entrava sta hit in hatch o ti impazzivo? Ah no, è venuto a rebuttare qua. Ma in che senso è venuto a rebuttare qua? Ok. Cioè, il bro stava totalmente scappando da non so quale altro team. Eh, ma questo, questi non stanno insieme a quello che ho ucciso, eh. Questi non stanno insieme a quello che ho ucciso. Ok. Di base, uno dovrebbe fare queste giocate qui con il doppio cecchino. Il problema è che io, se non ci riesco manco con questi, capite bene che non è tanto roba per me. Ok. Ora però, l'altro team di quest'altro che ho tirato giù che il campione stava cercando di rebuttare. Dove starà? Eh, mi sa che erano quelli che erano andati sull'isola, eh. Questi mi sa che sono il team tra i jardini della lobby. Infatti, guarda qua che loot. No, passi. Eh, raga, questi sono sicuramente quel team lì. Mamma mia ragazzi, il percussore se lo sai usare quanto è forte. Vabbè, comunque possiamo dire con grande chiarezza che appena ho beccato un team con delle leggere capacità di poter sparare sono morto. Possiamo dirlo proprio con grande chiarezza. Però raga, io veramente in sta stagione sto facendo una fatica incredibile a giocare. Perché ci sono questi nuovi fucile di assalto che ti laserano di brutto anche da vicino e proprio il problema è che io non li so usare. Cioè, qui fucile di assalto proprio zero. Mentre con i cecchini bene o male qualcosina riesco a fare, anche se la partita di prima dice il contrario, con fucile di assalto proprio male, 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 malissimo. Comunque, anche qui ci dovrebbero essere delle valigette delle armi, nel dubbio, se non dovessimo trovare almeno due cecchini, comunque poi vado ad aprirne altre e le cerchiamo per bene. Ah, ma quelli stanno andando lì, ma sul serio? Ok. Qui, ragazzi, dovrebbe essere un bel po' di loot. Ah, tra l'altro, ok, una sola ce n'è, mi ricorda. Ah, giusto perché erano così, scusate, ragazzi, ho avuto un po', non ci ho ripensato, però sì, comunque sono poche, ma lo sapevo fossero poche, però, insomma, una mi sembrava un po' eccessiva. Ok, comunque dobbiamo andare a cercarne un'altra, sicuramente, ma questi qua cerco di non faitarli immediatamente, che poi paradossalmente da qui o andiamo a scalini o andiamo praticamente qua da Jonesy, quindi tanto valeva riandata a Jonesy, ma vabbè, questa è un'altra storia. Oh mio Dio, regà, ma sì, ma non l'avevo proprio minimamente visti. Ok, buon in attimo. Comunque mi sa che in tutto sto discorso mi sono dimenticato di dirvi una cosa molto importante su questo cecchino. Ovvero che ci mette un po' dopo che hai sparato magari a fare un attimino al volo l'animazione, però in realtà una volta tu lo switchi, quindi switchi cecchino a un'altra arma, vi faccio un esempio pratico, sparo, io switch, arrivato sul cecchino, vedete che non deve rifare l'animazione, cioè paradossalmente fate prima sparare, fare così così e ci potete risparare. invece se io sparo deve fare l'animazione, vabbè adesso perché deve caricare è ok, però vedete un'altra che spara deve fare l'animazione che rimette tra virgolette il cecchino in funzione. Invece se voi sparate e switchate è già pronto all'uso tra virgolette ed è per quello e sta cosa me la so dimenticare di dirvela prima forse ve la devo dire subito, però questo è uno dei tanti motivi per cui appunto poi la gente ne fa tanto di utilizzo di questo nuovo cecchino e ne prende anche più di uno. E poi raga quando c'è il cecchino che sostanzialmente va a one-shotare gli avversari è sempre un vantaggio enorme e tu puoi ribaltare il fight da un momento all'altro ed è una roba incredibile ma sta cosa insomma non è che ve la devo spiegare io ecco. Comunque raga in sta lobby un sacco di gente caga corona eh cioè mentre la partita di prima è stata abbastanza tranquilla quest'altra mi sembra un po' più cattiva eh io mannaggia la miseria dovevo sfruttare la lobby più tranquilla di prima ah va bene ok ma siete tipo in otto questi poi sono arrivati proprio nel momento in cui dovevo lutare io ok molestati così questi molestati così praticamente let's go qui abbiamo fatto una bella kill anzi una oddio tripla no perché quest'altro l'ho lisciato due orte col cecchino ma questa è un'altra storia però devo dire la verità questa questa mi è piaciuta eh sto fight mi è piaciuto l'abbiamo gestito bene detto ciò il cecchino viola proprio col cavolo cioè proprio non ce lo vuole dare no me ne serve uno senza mirino o comunque con vabbè con quest'altro mirino ci posso anche quasi stare questo non ce l'ha no è questo vabbè solta ci dobbiamo accontentare finché comunque non riusciamo ad arrivare nuovamente magari a un banco da lavoro poi tra l'altro sulle moto tag cross si possono fare no no oh mio dio no no va bene ogni tre colpi uno entra fatemi capire no vabbè headshot nel dubbio vabbè non so perché io sia rimasto comunque tutto il tempo sopra la moto da cross ma va bene qui potevo fare una bella clip regato e ripigliavo tutti quanti col cecchino mentre ero sulla moto ma non sono in grado raga ma oh mio dio stavo giusto per dire ma quello in acqua ma come non è headshot e vabbè e vabbè ok allora aspettate va che questo me lo vorrei finire subito eh ah bro proprio mi vieni così cioè sei venuto proprio così cattivissimo nonostante ti abbia rotto lo shield ok quando uno è aggressivo è aggressivo eh va bene ah raga ma ma dove sta Nisha sta qua l'aghetto oh mio dio ciao bro oh mio dio no l'albero t'ha salvato eh bro mamma mia eh ciao Nisha io in realtà non volevo venire per te o meglio sì ma non qui eh vabbè eh vabbè ragazzi che devo fare eh raga il problema è che se rimango così se arriva un altro team sono praticamente morto sono praticamente morto raga se arriva un altro team ok e infatti mi ha segnato gente che nuota ah no però quello che nuota potrebbe essere anche uno di quelli che ho atterrato eh non so se farmeli fuori questi perché tanto me seguono all'infinito eh raga per forza ok va bene e mi dispiace non prendere l'assalto di Nisha ma va bene anche così comunque ripeto quello che stavano dando qui sta palesemente andando da un compagno per farsi ressare raga palesemente stanno qua dietro o qua da o qua dentro mi stanno a rubare pure la scorta ah no forse è morto qua no 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 raga fermi un attimo ok no non c'è nessuno ma palese raga palese palese stanno da qualche parte qui in giro ok raga c'è uno qua era un player sì era sì no raga questo è quello che ho atterrato prima sì eh vabbè meno male che è molto tranquillo il tipo però raga mamma mia che miss che sto facendo che schifo eh ma mi sa che stavolta c'è un altro team ancora eh quindi allora prima di andare un attimino a modificare i cecchini no stanno sparando di là oh l'ho preso eh vabbè quest'altro no eh vabbè però dai questo qui almeno l'ho preso una volta e no scoop l'ho preso dai ragazzi mi accontento così mi accontento così eh raga questi qua con la corona stanno a fare il devasto non credo siano quelli lì perché lì mi sembrano dei veri e propri cucciolotti ragazzi eh vabbè e andiamo al bunker oddio raga un cecco viola tra l'altro senza mirino quindi non lo devo neanche modificare più di tanto probabilmente mannaggia miseria mannaggia speravo in un altro cecco viola magari lo trovo qui col cavolo va bene allora modifichiamo subito il cecco viola no gli facciamo l'aumento della capacità e questo va bene ragazzi cioè ripeto alla fine mirare più velocemente col cecco può fare veramente la differenza anche se noi oggi qualche no scoop lo volevo lo volevo tentare qualcosa qualche no scoop oggi lo volevo tentare ah no raga non ho migliorato il pump non ho migliorato il pump non ho migliorato il pump ho pensato solo ai cecchini vabbè ok laser già ce l'ha quell'altro perfetto va bene quindi in realtà già andava abbastanza bene devo solo ricaricare le armi ora raga non sto capendo qui che che c'è un npc cosa sto vedendo esattamente che cosa cosa sto vedendo raga uno da solo che sta ah sono quelli dell'antenna del sono quelli dell'antenna ok ok in realtà potremmo anche pensare di farcela l'antenna io ve la butto lì faccio una mattata raga faccio una mattata per prendere la scheda del boss mi tolgo il pump faccio una mattata faccio questa cosa non andrebbe mai fatta ovviamente tra l'altro mo non mi devo risbagliare ok no è questo qui è questo qui il nostro pump perfetto ah tra l'altro qui ragazzi sulla sinistra abbiamo un altro di quelli col medaglione ce ne abbiamo due col medaglione quindi mi sa che è un team che c'ha un po' di medaglioni da parte perfetto no raga cioè gli sono praticamente finito addosso cioè stanno qui stanno o perlomeno ok ma dov'è è di là solo quello solo quello c'era che cosa ha fatto esattamente no 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 raga sta ributtando mamma mia raga era questo e c'ha mamma mia raga c'aveva il doppio medaglione c'ha un po' di cosette che fa ma ma raga cosa ho appena visto stava tipo andando in cielo la sua anima aveva lasciato il suo corpo e stava andando in un'altra dimensione ma che cosa ho appena visto oh no 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 un team bello aggressivo mi sembra mi sembra un team abbastanza aggressivo mi sembra un altro team abbastanza aggressivo ma non mi dico che mi hanno fatto il giro non ci crederò mai raga che si sono preparati così bene ma in che senso o no altri spari qui o no 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 altri spari qui non li accetto eh oh mammina ragazzi oh mammina questi capirà io poi ho 70 medaglioni dici sai camperi eh no che non ma questo si è distrutto un albero qua no raga stanno succedendo cose molto incredibili oh buono allora allora parliamone io ragazzi tanto non è che posso camperare questi mi trovano non al volo di più cioè nel senso subito però ragazzi tipo lì stanno sparando io so che qui c'è anche la prossima safe però non posso rischiare di rimanere sotto questa montagna sapendo di avere 70 team sopra uno sotto non posso in realtà che vi devo dire ragazzi a me non conviene per niente salire tipo qua sopra perché vuol dire fightare però ci andiamo ok il bro non se l'aspettava eh ora arriva il compagno però immagino immagino sia il compagno non lo so ok oh mio dio eccolo mamma mia è proprio quello che dovrei fare di continuo contro i miei avversari eh vabbè eh vabbè questo di poco però eh 116 ok eh va bene ora quello si è nascosto là dentro no raga ma io ho paura del team quello lì che mi si era organizzato per pusciarmi alle spalle dov'è quello lì guarda lì no non sono loro però mi sa no 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 non sono loro raga ma questi cosa sto vedendo la tempesta li ha uccisi ma cosa sto vedendo oh mio dio il re della montagna sono stanno morendo tutti sotto dov'è l'ultimo dov'è no non è l'ultimo c'è no uno qua dentro questa casa eccolo te prego lo devo riuscire a uccidere ora lo devo uccidere ora sono un cretino sono un cretino per due sono veramente scarsissimo mamma mia raga che lisci che ho fatto per la fretta raga eh per la fretta se mi faccio prendere dal panico questo sta proprio qua sotto raga ve lo dico io ma questo questi raga ve lo dico io sono incastrati raga le safe tra le montagne portatevi sempre il rampino qualche movement e forse questo sta incastrati eccolo 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 ma come non è entrata sta hit dai ma come non è entrata sta hit ma come non è entrata pure lui il cieco no si sta a cura qualcosa però eh ma se io salissi tipo più di qua lo riuscirei a fregare ok si ah dai pure luce al cieco ok la safe sta dietro di me per fortuna raga perché se no sta partita me l'ero mangiata mamma mia raga me l'ho mangiato sta partita comunque senza mirino da lontano è infattibile eh senza mirino da lontano non ci riesco proprio raga quindi prossimamente mi sa che è meglio prendermelo anche con il mirino quello piccolino ma ok il problema raga è che non ho capito no non si è mosso sta ancora là dietro dove sta salendo oddio l'ha preso al volo oddio l'ha ripreso oddio raga finalmente una giocata decente dopo tutto il video con la vittoria della corona oh mio dio dai almeno abbiamo chiuso in bellezza raga almeno quello ragazzi diciamo che quest'ultima giocata che ho fatto contro l'ultimo dovrebbe essere la giocata standard da fare col doppio cecchino quindi una buona mira no stare lì tranquilli non farsi prendere troppo dalla fretta e poi switchare sull'altro cecchino pam 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 devo dire raga che secondo me quest'oggi ha giocato molto su di me la fretta di voler usare un cecchino e switchare sull'altro perché in realtà di solito modestamente li so usare molto meglio di così i cecchini però avendo l'ansia di dover switchare sull'altro e cercare di fare delle belle clip mi ha fatto mandare tutto all'aria però alla fine della fiera raga in un modo o nell'altro ce la siamo cavata e ce la siamo anche portata a casa devo dire che quell'ultimo team che è rimasto sotto 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 nella tempesta se l'è giocata male perché probabilmente l'avrebbero vinta loro la partita raga perché erano in tre c'havano veramente 70 medaglioni pure loro tra una cosa e un'altra ma avrebbero killato soprattutto poi in no build però raga veramente col fatto che la mappa è tutta totalmente montuosa queste zone innevate c'ha delle montagne altissime se non avete il rampino se non avete le impulsi siete veramente fregati in no build quindi raga in no build fondamentale il movement soprattutto in endgame fatemi sapere appunto se vorreste vedere il video dove vado a utilizzare solo le armi delle valigette vi ricordo ovviamente anche il codice creatore ggy antitutto grande tutto attaccato nei cozzoggetti di fortnite fondamentale per supportarmi iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto lasciate un bel mi piace per supportare questa tipologia di video per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale ciao ragazzuali ciao